L'azienda si è seduta al tavolo e questo è per tutti un piccolo passo avanti in una situazione che rimane comunque molto preoccupante. Il piano di risanamento della Ferro, l'associazione che produce caldaie e sistemi per il riscaldamento industriale, che conta 1200 dipendenti in tutta Italia, prevede 600 licenziamenti, 400 a Verona, 130 nella fonderia di alluminio di Alano di Piave, nel Bellunese, che verrebbe chiusa definitivamente. Ma una via per ridurre questi numeri paurosi, che avrebbero un impatto devastante sul tessuto sociale delle due città, c'è, anche se molto stretta. All'incontro tecnico, convocato nella sede di Confindustria, tra le parti, si sono presentati in forza anche i lavoratori. Alla fine l'azienda, rappresentata dall'amministratore delegato Maurizio Prete, dallo staff della direzione personale e operativa, ha accettato di sedersi al tavolo delle trattative, già convocato sempre a Confindustria a lunedì mattina, fiduciosi sindacati che hanno subito tenuto un'assemblea per riferire ai lavoratori in azienda. Abbiamo posto i presupposti, spiega Luca Mori, segretario della FIMCISL, per affidamenti reciproci, affinché l'azienda non prenda iniziative unilaterali rispetto ai licenziamenti dichiarati, ma favorisca un accordo di cassa integrazione straordinaria e conceda la mobilità solo su base volontaria. Un percorso condiviso anche da CGL e Will, che nel frattempo anche congiuntamente metteranno in cantiere iniziative e tavoli di trattativa per cercare tutte le soluzioni possibili anche attraverso il coinvolgimento del Ministero allo sviluppo economico, con l'intento di trovare soluzioni migliori e soprattutto tentare di ridurre l'impatto occupazionale. Il presidio dei lavoratori con il blocco dei TIR che consegnano l'acciaio in azienda continuerà comunque fino a lunedì e comunque fino a che non verrà sottoscritto un nuovo accordo che delinei una strada diversa dal licenziamento di metà dei 1.200 lavoratori complessivi del gruppo.